bentornati a tutti come dicevamo nello scorso video abbiamo avuto a disposizione una fujifilm x20 e 5 obiettivi f2 della gamma fujifilm xf e oltre ad averli usati per il nostro pezzo un mese senza zoom abbiamo deciso di metterle alla prova in laboratorio per vedere come andavano appunto abbiamo il 23 mm che abbiamo qui attaccato abbiamo provato il 90 mm f2 e gli altri obiettivi abbiamo detto che erano anche abbastanza tascabili infatti sono tascabili tiro fuori il 50 mm tiro fuori il 35 mm e tiro fuori anche finito il 18 mm tutti messi in tasca diciamo che sono 5 obiettivi che possiamo dividere in tre famiglie diciamo il 18 mm è stato uno dei primi obiettivi lanciati che un x pro 1 e al debutto del sistema mirrorless fujifilm x series quindi appunto uno dei capostipiti della famiglia poi abbiamo il 90 mm che è una delle ottiche di alta qualità è il più costoso dell'otto ed essendo praticamente un 135 mm equivalenti f2 è un'ottica particolare che trova il suo spazio nel ritratto nello sport a medie e vicine distanze e appunto un'ottica abbastanza abbastanza particolare che in non molti metteranno nella propria borsa le altre tre ottiche invece sono praticamente della stessa famiglia sono di più recente produzione sono le versioni f2 degli obiettivi f1 e 4 che c'erano già in gamma obiettivi che sono quali 1 e 4 più grossi più costosi più ingombranti e anche leggermente un po più difficili da usare fujifilm ha deciso in questi ultimi anni di fare questa serie f2 weather resistant del 23 del 35 e del 50 mm che quindi sono praticamente parte della stessa famiglia con un design rastremato per l'utilizzo anche con le fotocamere della serie x pro senza occupare parte del mirino come accade con le altre ottiche ad esempio con le f1.4 quindi praticamente tre famiglie diverse li potremmo accorpare a 4 e 1 il 90 rimane sempre un po fuori dal gruppo per le sue caratteristiche se invece ci limitiamo alle ottiche da 18 a 50 mm sono perfette per chi viaggia coprono la giusta il giusto range di focali e adesso andiamo a vedere con i dati di laboratorio alla mano come vanno questi obiettivi come dicevamo il 90 mm è quello che si stacca maggiormente dal gruppo sotto tutti i profili l'ingombro il peso bello pesante il costo sono sui 930 euro e la qualità è veramente un obiettivo che ha dei risultati eccellenti se messo alla prova in laboratorio con le mire ottiche abbiamo una nitidezza veramente elevata qualunque il diaframma al centro del fotogramma e che rimane altissima anche ai bordi fino a f8 addirittura sotto questo punto di vista quello della nitidezza potremmo dire che i 24 megapixel attuali delle fujifilm mirrorless non riescono ancora a mettere in crisi questo obiettivo sarà interessante provarlo se fujifilm deciderà di aumentare i megapixel dei propri sensori a livello di vignettatura i risultati sono in linea con quanto visto per la nitidezza tanto che oltre a f4 non risulta nemmeno misurabile assenti anche la distorsione e l'astigmatismo l'unica pecca che viene rilevata anche però sui fratelli più piccoli è l'aberrazione cromatica che è insignificante al centro ma che ai bordi diventa chiaramente visibile già al 100 per cento gli altri quattro obiettivi sono più omogeni come caratteristiche e destinazione d'uso con un piccolo distinguo come dicevamo il 18 mm è un po il più vecchio della serie delle ottiche fujifilm x mentre gli altri sono molto più recenti tutte queste ottiche sono della famiglia r ossia con la regolazione degli aframmi diretta sul barilotto dell'ottica con anche la possibilità naturalmente di metterlo in automatico in a e lavorare in priorità dei tempi con automatismi sui diaframmi a livello di vignettatura il 23 è il peggiore dei quattro anche se dire peggiore è offenderlo in un modo eccessivo perché perde meno di uno stop a tutta apertura e bastano due stop di chiusura per recuperare completamente la vignettatura interessante l'analisi della distorsione dove il 18 mm per essere un 18 mm e quindi un grandangolare decisamente buono mostra una modesta distorsione a barilotto e appunto molto contenuta utilizzabile che senza problemi senza avere tutte queste foto panciute il 23 mm è strano perché a dispetto di un'ottica che ancora grandangolare ha una distorsione a cuscinetto tipica dei tele i peggiori sono il 35 il 50 mm non hanno una distorsione elevatissima in assoluto ma visto lo standard delle ottiche fushifilm a livello di qualità e visto che sono due ottiche a focale fissa forse ci si poteva aspettare qualcosina di meglio da notare che la distorsione è uno dei difetti più facilmente corregibili sia in macchina attivando la modulazione l'ottimizzazione modulazione obiettivo sia in post produzione con il giusto profilo quindi se scattate con appunto l'ottimizzazione attiva sulla fotocamera non vi accorgete nemmeno della distorsione passando alla nitidezza il 18 mm l'avevamo già analizzato ai tempi della x pro 1 e già sui 16 megapixel la x pro 1 avevamo detto che aveva una buona nitidezza al centro mentre una nitidezza abbastanza scarsa sui bordi anche chiudendo il diaframma ai bordi non passa quasi mai la sufficienza il 23 mm che in questo momento è montato sulla x t20 è caratterizzato da una nitidezza al centro che soffre un po alle alte aperture per farlo lavorare il meglio bisogna chiudere a f4 ai bordi bisogna diaframmare f4 per avere una buona nitidezza i diaframmi di lavoro migliori sono f5 6 e f8 discreto il comportamento sotto il punto di vista della dell'aberrazione cromatica il 35 mm quindi 50 circa 50 mm equivalente sul formato apsc delle mirrorless fujifilm è un buon obiettivo per il ritratto e per il reportage molto nitido al centro anche alla massima apertura lavora molto bene a f5 6 e a f8 ai bordi la nitidezza non è mai eccezionale ma come detto per il ritratto ad esempio è una cosa che importa poco nel complesso il comportamento è molto buono l'aberrazione cromatica è un po alta ai due diaframmi più aperti mentre decisamente è migliore a partire da f4 e poi si mantiene su quei livelli il 50 mm che lo ricordiamo sul formato apsc è praticamente un medio tele un 75 mm mostra un comportamento simile al 35 mm con maggiore nitidezza però ai bordi anche in questo caso l'aberrazione cromatica è forse il più evidente ma il discorso vale per tutti e un po anche come dicevamo prima dell'assursione è abbastanza facilmente recuperabile in post produzione e con la correzione automatica degli obiettivi basta applicare il profilo giusto e si riesce a cancellarla in modo abbastanza efficace i test in laboratorio sulle mire ottiche vanno sempre a scovare il pelo nell'uovo quindi potrebbe sembrare che questi obiettivi non si comportino bene in realtà appunto si comportano decisamente bene e noi l'abbiamo sperimentato anche sul campo utilizzando solo essi senza zoom senza nient'altro per un mese la qualità che si riesce a ottenere degli scatti è sempre decisamente elevata il profilo dello sfocato è interessante anche sul 35 e sul 50 mm certo il 90 mm è il migliore del gruppo però se ci vogliamo limitare alle ottiche che possiamo portarci più facilmente in viaggio diciamo che con il 18 il 23 mm il 35 il 50 mm abbiamo disposizione praticamente quello che copriremo con uno zoom 18 55 ma con una qualità migliore perché appunto i fissi sono sempre maggiormente ottimizzati che degli zoom che devono lavorare bene su un'ampia escursione di focale e soprattutto con apertura di diaframma f2 a tutti le focale cosa che non è scontata ad esempio di zoom 18 55 f2 non esistono la cosa più vicina che abbiamo l'avevamo detto anche nell'altro video forse il sigma 18 35 mm f1.8 che però è un obiettivo che è bello grosso e pesa 8 etti in questo caso come avete visto prima l'ho tirato fuori dalla tasca ci possiamo portare in giro una piccola borsettina con tutti e quattro gli obiettivi e sbizzarrirci al massimo nelle nostre foto con la focale fissa che andate a vedere il video che abbiamo pubblicato prima è anche un ottimo modo per imparare o meglio familiarizzare di più con alcuni dei concetti fondamentali della fotografia